Chiamerei il Presidente della Provincia di Torino, Antonio Saita. Buongiorno, un saluto anch'io, mi associo al saluto che è stato rivolto alla Senatrice Fedeli e un ringraziamento sincero al Consiglio regionale, al Presidente Cattaneo e in modo particolare a Roberto Placido come Presidente del Comitato regionale per la resistenza. C'era la necessità di uno studio di questo tipo, anzi colgo l'occasione per ringraziare Claudio De Valle, Presidente dell'istituto storico della resistenza. E' chiaro che questo studio fa chiarezza, elimina un luogo comune, quello che normalmente si riteneva, cioè l'Italia divisa in due in quel periodo, la resistenza al nord e i CLN al sud, una cosa diversa. Invece c'è stato questo rapporto complessivo che ci permette oggi di dire che la resistenza, come era stato l'Italia, evidentemente è stato un fenomeno nazionale, la dimensione è quella che è stata prima richiamata e di questo evidentemente non possiamo che essere orgogliosi, tanti che siamo qui. Avevamo la sensazione che oggi viene certificato, possiamo dire così. Io voglio soltanto richiamare come questo tema, c'è questa modalità, la quale il Consiglio regionale ha deciso di fare chiarezza, è una modalità di grande interesse, anche perché è sul filone del lavoro che abbiamo fatto per il 2011. Io ho avuto la fortuna di presiedere il Comitato per le celebrazioni del 2011 nel 2009, quando si impostò il lavoro, le mostre, le iniziative e devo dire in quanto anche io, siciliano, come molti di voi, meridionale, avevo come dire un obiettivo che in qualche maniera sono riuscito poi a far valere nel Comitato e nel rapporto con il Capo dello Stato, anche se obiettivamente è stato anche facile col Capo dello Stato. Le nostre celebrazioni sono state riconosciute, celebrazioni importanti, celebrazioni nazionali, è stata la celebrazione più importante del nostro Paese. Ma questo è avvenuto perché abbiamo impostato il nostro lavoro evitando di cadere in un luogo comune come se l'Unità d'Italia fosse stata l'invasione dei Piamontesi. Era questa la semplificazione. Non è stato così, l'abbiamo dimostrato, perché nel periodo antecedente all'Unità d'Italia Torino era diventato la città che aveva tanti esuli provenienti dal Regno delle Due Sicilie, tanti esuli importanti provenienti dai nostri comuni. E ricordo che al Reggio, ricordando quel periodo, in quanto siciliano, ero orgoglioso di dire che c'era qui a Torino Filippo Cordova, che era un grande personaggio siciliano, che era stato addirittura il direttore del Risorgimento di Cavour e poi Ministro del Regno. Ho citato un caso, ma questo per dire che l'Unità d'Italia è stato un fenomeno, come dire, estremamente contiviso e quanto partì la fase successiva dell'Unità d'Italia è chiaro che qui c'era una classe dirigente italiana. E se si abbia quel risultato questo è dovuto a quel fatto che Cavour riuscì ad attrarre classe dirigente. Io credo che per motivi diversi, anche per quanto riguarda la resistenza, è chiaro che qui non c'erano più gli esuli, erano in qualche maniera tanti militari che sono rimasti qui, per motivi diversi sostanzialmente oggi possiamo dire che quel patrimonio unitario e l'era resistenza è un patrimonio nazionale. E devo dire l'elemento più forte di questo patrimonio nazionale, bene ricordarlo in questo periodo, è sicuramente la Costituzione italiana. Richiamo questo e dico soltanto pochissime parole perché in questi anni di amministratore comunale, girando i luoghi dove ho amministrato i comuni, i tanti comuni della provincia, sentendo le tante testimonianze, ebbè i partigiani sono gelosi di questo. Sono diventati gli elementi di tutela di quel patrimonio e dobbiamo in qualche maniera ritornarci anche in occasioni come queste perché la nostra democrazia è oggi in qualche maniera sotto attacco. La nostra democrazia fondata su quei valori del personalismo solidare, sussidario, sull'equilibrio dei poteri, è attaccata da una concezione un po' pubblicitaria e autoritaria. C'è una sorta di insofferenza verso i poteri, l'esaltazione della capacità del leader che interpreta tutto, anche le opinioni degli organi elettivi. Ebbè c'è qualcosa di grave, qualcosa di pericoloso e allora dobbiamo in qualche maniera, in occasioni come questa in cui richiamiamo questi valori, dire qualcosa di molto semplice. Dobbiamo difendere quei valori, bisogna ritoccarli, si faccia. Ma non è che per l'incapacità politica di una classe dirigente nazionale bisogna modificare la Costituzione. Una cosa è l'incapacità e una cosa è la Costituzione che va difesa. E allora credo in momenti in cui si avviva anche nazionalmente una revisione della Costituzione, credo che possiamo dire, citare qualche esempio, che la Costituzione americana è in valore e in vigore da oltre 200 anni, è un Paese che ha fatto grandi passi avanti ma nessuno si è mai messo in mente di modificare la Costituzione dei padri di Filadelfia. Allora questo è il messaggio che mi sento di dire in questo momento in cui rappresentiamo l'unità del nostro Paese. Allora la Costituzione bisogna trattarla con grande cura e come diceva qualche grande amante e completo della nostra Costituzione bisogna applicarla. C'è tantissimo lavoro da fare. Grazie e buon lavoro.